Oggi è l'8 marzo, giornata delle donne, morte di grasso, tante cose, ma soprattutto è il giorno di uscita di questo disco che avete già visto che non ho ancora scartato, continuo nella mia posizione. Dato che oggi Marco ha comprato una penna nuova, ci apprestiamo a festeggiare l'uscita dell'album nel modo diseducativo più alto che conosciamo, lo so che è diseducativo, però comunque è una cosa stupida che ci teniamo molto a fare. Stiamo per, Marco lo riprendo io, stiamo per giocare il codice a barre di E sul Super Enalotto, quindi se non vedrete mai, se non vedrete mai, 80, 33, 33, il 120 non c'è, 12, 98, no, 0, 9, 9, 82, 47, 7, 98, 24, 77, non so quanti devono essere i numeri, e beh così quanti sono? Va bene, va bene, 98, 24, 77, 98 non c'è, 9, 82, 97, e il 7 Super Star, va bene, 47, ma il 7 Super Star, e vabbè qualcosa dobbiamo fare, insomma abbiamo giocato i numeri, no il 7 non te lo dai in automatico, no, cioè il Super Star te lo dai in automatico, e come fai? Non lo so, facciamo che, il 7, lo metti da solo gli altri fai a caso, facciamo un'altra cosa, no il 7 esce sicuro, vabbè insomma, se vedrete questo video vuol dire che non abbiamo vinto, perché se no non mica siamo scemi, non ve lo facciamo sapere che abbiamo vinto, perciò io credo che lo vedrete, facciamo quest'altra, che non credo che vinceremo, facciamo un altro video, iniziando da dietro, 77, 24, guardate che stratega del numero, 8, 9, vabbè intanto io vi racconto, ho fatto un momento educativo, non giocate a questi giochi, che sono una fregatura, spendete soldi e non vincete niente, però ricordiamo anche a tutti i bambini da casa, che oggi dite a vostra madre di comprare questo disco, bellissimo, bellissimo.